Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nel prossimo weekend è atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia, la quale porterà qualche pioggia come pure aria più fredda. Vediamo allora in dettaglio che cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di sabato 20 gennaio. Al mattino locali rovesci interesseranno soprattutto Puglia e Molise, mentre qualche fiocco di neve potrà cadere sulle Alpi Occidentali. Irregolarmente nuvoloso altrove, come anche al pomeriggio, quando sono attese precipitazioni sparse solo sulla Puglia e sull'arco alpino, con neve fino a quote medio-baste. In serata e poi in nottata si inizieranno a sentire gli effetti del transito della perturbazione, con neve sulle Alpe anche fino al fondo valle, sui settori centro-orientali e rovesci specie al centro Italia, sulla Sardegna. Neve anche in appennino fino a 900-1200 metri. Concludendo con le temperature, queste rimarranno stazionari tenderanno a diminuire leggermente sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per avere le previsioni sempre aggiornate per le vostre località scaricate la nostra app Meteo oppure